E siamo qui al Moto Days 2013 a Roma, nuova fiera di Roma, con una ragazza rumena ed una romana, indovinate quale, vediamo 5 secondi, avete già indovinato. Cominciamo da quella romana perché giochiamo in casa. Buonasera. Buonasera. E ti chiami? Maria Grazia. Siamo allo stand della? Della Benelli. Della Benelli. Di qua invece abbiamo? Susanna. Susanna che viene appunto dalla Romania. Della Romania. Siamo nello stand della Benelli che si trova di base, Maria Grazia, allo store, possiamo dire, dove? A Prati Fiscali. Via dei Prati Fiscali? Esattamente. Quindi a Roma, via dei Prati Fiscali. Io devo dire che ho un Moto B della Benelli del 73 e il direttore commerciale, se vuole dire due parole, un attimo, lo chiamiamo, intanto, fai pure con comodo, tanto io sono in buona compagnia, approfitto. Vogliamo far dire due parole sul... ecco, abbiamo qui appunto... Giannotti, Massimo Giannotti. Abbiamo detto appunto che il tuo store si trova, scusa Maria Grazia, si trova a Via dei Prati Fiscali. Siamo la concessionaria per Roma e provincia del marchio Benelli Moto. Qual è adesso la moto della Benelli più diciamo in voga oppure più in bella, diciamo, da comprare? La moto di punta è la TNT 1130R, che è la moto, diciamo, che raccoglie un po' tutti i massimi contenuti tecnologici dell'azienda, con un motore di 156 cavalli, dopo la mostriamo. Voi, la Benelli che cosa tratta in particolare? Un po' tutti i tipi di scooter, moto da strada? Sì, partiamo da 50 di cilindrata scooter fino a 250 e poi le motociclette partiamo ora da 600. Ci saranno anche dei modelli nuovi, 250 in presentazione tra pochissimo tempo. Qui in questa occasione abbiamo presentato dopo l'Ecma di Milano la BN600, che è una moto che esce in anteprima con un motore 4 cilindri, 82 cavalli, tutta componentistica italiana, Brembo, sospensioni italiane. La Benelli quindi è una ditta italiana storica, no? Quando è stata fondata e dove si trova, diciamo, di base? Lo stabilimento da sempre, dalla sua nascita, 1911 a Pesaro, stabilimenti sono ancora... Quindi nelle Marche? Nelle Marche, sì. Per cui è rimasta sempre a Pesaro. Personale, design, tecnici, ingegneri... Quindi il vostro è, diciamo, il negozio Benelli ufficiale qui a Roma? Primo Benelli Store e, appunto, copriamo il mercato più importante a livello europeo, quello di Roma. Ti ringraziamo, risalutiamo la ragazza... Susanna. Molto alta, ecco, Susanna, dalla Romania. E invece abbiamo Maria Grazia, che è nostrana, romana. Di che quartiere? Casalotti. Casalotti, quindi zona boccea, qui vicino, diciamo. Esatto. Un saluto, chiudiamo con gli occhi verdi di Maria Grazia. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, buon lavoro. Grazie. Ok, grazie. Grazie.